E incostante fermendo le attività della Guardia di Finanza di Lauria, il loco è nelle zone limitrofe. L'azione di prevenzione e repressione dell'abusivismo ha portato alla scoperta in questo fine settimana di un salone abusivo da parrucchiera nei pressi di Latronico, contando di attrezzatura operativa e clientela presente. Al condempo arrivano le prime bastonate per i forni illegali, fra il comune di Lauria e Castel Saraceno, con sezioni pari a circa 9.000 euro, dovuti al mancato possesso della scia sanitaria. Una vera e propria azione capillare sul territorio, che a quanto pare non cessa a diminuire, anzi i militari guidati dal tenente Cappetta, che non rilascia alcuna dichiarazione alla stamba, sembrano impegnati in una variegata azione sui diversi settori commerciali del territorio.